E poi mi si è concesso perché è una notizia a me purtroppo fresca fresca questa mattina tanti lo hanno conosciuto, io mi prendo, questa è un, mi prendo le mie responsabilità nel senso che non era previsto questo perché magari secondo me nessuno lo conosceva lo conosceva, era qui all'interno di questi 700 amici ci sono, c'è chi ha conosciuto l'organizzatore della maratona di Ferrara che è mancato ieri mattina, Giafranco Corrani Noi rimaniamo qua, guarda che sono un po' Signora, signore, tutto il mondo, canzione, guida, buona domina di Sopre a per il piano di Sopre Vai, riprendi, continua a riprendere Grazie 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 Eccolo, Marco! Eccolo, Marco! Non ti mettere davanti, mamma! Primo frazionista, il secondo frazionista, Giulio Padovese. Dani, quali fa la foto? Un vero, un vero, un vero, un vero. Prego, prego! Quindi classifica che si viesse.